Vabbè, no, non si rimane. No, stanno dicendo che... No, ma stanno dicendo che... Non ci sono tante strutture. Stanno dicendo che... E' Bernino. Sì, però queste... Stanno strutturati. E poi abbiamo una telecamera sola. La facciamo a spalla. Però la telecamera a spalla. Senza se la camera si può muovere. La camera deve stare qui. La spalla, ferma. E' da cagare. Se scuola.